Eccomi qui cari amici ben ritrovati, sono in video dopo tantissimo tempo sul mio canale YouTube mi sembra giusto omaggiare queste due settimane straordinarie di tennis italiano con protagonista per la maggior parte ovviamente Yannick Sinner prima le ATP Nitto Finals battendo a gioco Vici in girone poi purtroppo battuto da quest'ultimo nella finalissima ma ovviamente la ciliegione sulla torta è stata la vittoria della Coppa Davis quindi come vedete anche dall'immagine siamo campioni del mondo, del tennis mondiale bisogna continuare su questa strada, i presupposti ci sono tutti quindi che dire, forza Italia e ovviamente faccio anche un piccolo accenno a Pecco Bagnai alla MotoGP complimenti a Pecco quindi continuiamo così, viva lo sport noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti